Ben trovati a Notizie di Prato Tg, partiamo con l'ennesima truffa ai danni di anziani. Questa mattina nel centro di Tavola due balordi hanno truffato una coppia di ottantenni. La signora subito dopo aver scoperto di essere stata derubata di gioielli e soldi, ha accusato un malore ed è stata portata all'ospedale. La cronaca di questa triste vicenda nel servizio. Un'ottantenne si è sentita male subito dopo aver scoperto di essere stata truffata da due individui che si sono spacciati per un addetto di Publiacqua e per un carabiniere, portandole via tutti i gioielli custoditi in casa e anche denaro contante. È stata portata all'ospedale in codice giallo. Al suo fianco il marito, presente in casa quando i due malfattori hanno iniziato la messa in scena. L'ennesima truffa ai danni di anziani è avvenuta questa mattina nel centro di Tavola, a sud di Prato. Poco prima di mezzogiorno due malviventi si sono presentati nella casa di due ottantenni sostenendo che l'acqua era contaminata e che risultava una perdita all'impianto dell'abitazione. Di conseguenza era necessario riparare tutto velocemente. Le divise indossate dai due truffatori hanno rassicurato la coppia che fidandosi ha dato il via libera all'intervento di ripristino. Pochi minuti e i due si sono congedati velocemente, dileguandosi su un'utilitaria scura. Solo allora gli anziani si sono accorti che era sparito tutto, gioielli e ben 14 mila euro in contanti che erano stati messi da parte per effettuare alcuni lavori in casa. Sul posto, oltre a un'ambulanza inviata dal 118, sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza privata presenti nelle immediate vicinanze alla ricerca di elementi utili per individuare i due truffatori. I carabinieri raccomandano agli anziani che vivono solo in casa di non aprire mai a chi non si conosce e nel dubbio di telefonare sempre al 112. Ha colpito con un pugno al volto lo stesso cinese che qualche giorno prima aveva già picchiato e rapinato. Un marocchino di 39 anni è stato denunciato dalla polizia che lo ha rintracciato in via Magnolfi all'alba di ieri. Precisa la descrizione fatta dalla vittima e per gli agenti non è stato difficile individuare il nord africano. L'ultima aggressione risale alla notte tra sabato e domenica, mentre la rapina alla notte del 21 giugno. La vittima è stata aggredita nei pressi della stazione del Serraio. Senza apparente motivo il marocchino ha colpito l'uomo al volto. Il cinese è andato a fare denuncia in questura e poi ha riconosciuto il suo aggressore nel frattempo fermato dagli agenti delle volanti. Ai poliziotti il cinese ha raccontato che si trattava della stessa persona che già lo aveva picchiato per rubargli un paio di orecchini. Il marocchino è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni, ubriachezza e infine è stato segnalato alla prefettura per la detenzione di una piccola quantità di stupefacente. Torniamo a occuparci di sfruttamento del lavoro nelle aziende tessili, soprattutto dopo le recenti denunce di Sicobas, perché il comune ha chiesto un incontro urgente alla prefettura. Alessandra Grati. Dopo le proteste e le denunce del sindacato Sicobas di sfruttamento dei lavoratori stranieri nelle aziende tessili pratesi, l'amministrazione comunale ha chiesto un incontro con il prefetto Rosalba Scialla. È una questione ovviamente di diritto e diritti dei lavoratori. Noi abbiamo scritto al prefetto chiedendo un appuntamento, un incontro, perché deve essere chiaro che non soltanto c'è una richiesta che viene ormai da lungo tempo da parte del territorio, pratese per un aumento delle dotazioni, delle amministrazioni periferiche dello Stato, dall'ispettrato del lavoro all'Inps e all'Ineil, soltanto per citarne alcune, ma anche deve essere chiaro che i costi dell'impresa, i costi aziendali, non possono essere assolutamente scaricati sui lavoratori. Questa non è una questione etica, è una questione di diritto del lavoro che deve essere garantito a tutti a parità di condizioni. Ovviamente aspetta al prefetto, se del caso e se lo riterrà opportuno, ampliare l'ordine del giorno e anche la composizione del tavolo. Non ci permettiamo di chiedere al prefetto di invitare altri. Un anno fa procure comune hanno firmato un protocollo di intesa per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori. Sul territorio intanto continuano i controlli interforze per prevenire le irregolarità e assicurare che le attività lavorative si svolgano nel rispetto delle norme. Un'importante collaborazione tra Comune, Di Prato, Procura della Repubblica, Questura, Prefettura, Asl, Regione Toscana e Forze dell'Ordine. Intanto presso l'ufficio di Via Roma 101 attiva uno sportello dedicato ai lavoratori che volessero denunciare casi di sfruttamento. Ora parliamo sempre di tessile, ma in chiave positiva, perché il 26 si apre Pitti Filati. Sono una trentina i produttori pratesi che parteciperanno a questo evento, alla Fortezza d'Abbasso, fino al 28 giugno. Come sempre le proposte per la stagione fredda sono quelle più congeniali alle tipologie produttive del nostro distretto. Ma per il dettaglio sentiamo Nadia Tarantino. Tutto pronto per l'edizione numero 85 di Pitti Filati a Firenze dal 26 al 28 giugno, edizione che mette in vetrina le tendenze per l'autunno-inverno 2020-2021. Come sempre le proposte per la stagione fredda sono le più congeniali alle tipologie produttive del distretto pratese che risponde all'appello di Pitti Filati con 30 aziende. È un momento di grandi aspettative per tutto il comparto filati per il quale i dati del Centro Studi Confindustria Toscana Nord tratteggiano una situazione in controtendenza rispetto all'andamento nazionale. Se la produzione industriale dei filati italiani ha segnato meno 5% nel 2018 e meno 10% nel primo trimestre 2019, per i produttori di Prato i numeri sono rispettivamente più 5 e più 3%. Positivo anche l'export che continua a trovare nell'Europa il mercato di riferimento. Crescite importanti però si registrano verso la Cina e verso la Corea del Sud che aumentano rispettivamente del 48% e del 37%. Prato si conferma tra i poli più importanti della produzione di filati con 77 aziende e 1.300 addetti di una filiera altamente specializzata. I filati per maglieria costituiscono metà della produzione pratese. Un ulteriore 25% è rappresentato dai filati per tessitura ortogonale e jacquard, il 15% per arredamento e il rimanente per aguglieria, cucirini e ricamo. Quasi il 70% della produzione di filati è concentrata sulla stagione invernale. Il giro d'affari del settore è stimato intorno a 565 milioni di euro, di cui oltre il 48% riguarda le esportazioni. I risultati positivi che stiamo riscontrando non ci esimono dalle preoccupazioni che investono l'intero settore tessile, commenta Raffaella Pinori, coordinatrice del gruppo produttori di filati della sezione Sistema Moda di Confindustria Toscana Nord. Instabilità e rallentamento dell'economia internazionale costituiscono un potenziale problema per tutti. La nuova edizione di Pitti Filati mette l'accento sul tema molto sentito della sostenibilità. Giovedì ci sarà un incontro sulla tracciabilità delle fibre di lana e mohair e delle fibre riciclate. Un appuntamento importante per avere tutte le ultime notizie sugli standard di certificazione del benessere animale, oltre che per fare il punto sul sistema di certificazione delle fibre laniere rigenerate. Parliamo di mobilità, arriva il biglietto elettronico anche per le corse extraurbane. Oggi la presentazione in Piazza del Comune. Sentiamo Alessandra Grati. Biglietto di abbonamento elettronico anche per le corse extraurbane della CAP. Da oggi il servizio è esteso su tutte le linee, utilizzando la carta mobile, che fino al 30 settembre sarà gratuita. Poi sarà acquistabile nelle biglietterie al costo di 6 euro. Con questa estensione tutto il servizio extraurbano della provincia sarà dotato di apparecchiature e di strumenti per poter vendere e utilizzare titoli elettronici. La carta mobile sarà quindi l'unico strumento utilizzabile per l'acquisto dell'abbonamento extraurbano, mentre per il biglietto sarà possibile comprarlo ancora cartaceo oppure elettronico, usando sempre la carta mobile. La modalità poi di utilizzo è la stessa del servizio urbano, quindi salendo a bordo dalla porta anteriore tutti gli utenti, anche gli abbonati, dovranno fare l'operazione di validazione di BIP. Questo aumenterà il controllo sociale e sarà un ostacolo all'evasione. Sarà anche per l'azienda e per l'amministrazione un momento per conoscere meglio il servizio e quindi programmarlo anche meglio. Fino al 22 luglio conviveranno gli abbonamenti cartacei e quelli elettronici. Per aiutare i viaggiatori ad abituarsi alle nuove modalità entrano in azione i facilitatori, scelti tra 14 ragazzi che stanno frequentando la Cap Academy. Sulle linee urbane l'utilizzo del titolo elettronico ha fatto registrare un incremento del 2% delle vendite. Un servizio che mette sullo stesso piano tutti i cittadini della provincia di Prato, quindi quelle delle zone più marginali, quelle delle zone montane, il cittadino di Luicciana, di Migliana, di Schignano, Cavarzano, Montemurlo, sono trattati nello stesso modo di un cittadino che abita nel centro di Prato. È un'innovazione importante, all'avanguardia sia della regione toscana sia che a livello nazionale. Tra le novità annunciate da Cap, l'installazione dei tornelli, per ora attivi solo sulla Lama Viola, anche sulle corse urbane ed extraurbane. Intanto crescano i viaggiatori che utilizzano l'app Teseo per consultare gli orari e i tempi di attesa degli autobus. C'è tempo per un'ultima notizia. Due liti in meno di due ore ieri nella zona di Pratilia. La Questura ha ricevuto le richieste di intervento da Via Franklin intorno alle 11 e poco prima delle 13. Nel primo caso si è trattato di un litigio che ha coinvolto due transessuali brasiliani. Un 38enne è stato identificato e accompagnato in Questura perché destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore e dunque non doveva trovarsi a Prato. L'altra lite ha coinvolto un transessuale brasiliano e un italiano. Anche in questo caso la denuncia è scattata nei confronti dei cittadini o straniero, 33 anni, che non avrebbe dovuto essere in città perché colpito dal provvedimento del Questore. Non sono chiari i motivi che hanno originato le discussioni e se ci siano collegamenti tra i due episodi. E con questo è tutto. Ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Notizie di Prato Tg torna domani alla stessa ora. Buona serata.